Può capitare a questa età di avere un po' di alti e bassi nelle prestazioni, concetti ci sono, abbiamo sbagliato un po' più del dovuto oggi ma va bene, dai va bene, i ragazzi vanno sempre incitati a far meglio, a fargli capire quali sono stati gli errori e migliorarli durante la settimana. Il lavoro nostro è questo, senza nessun tipo di problema per quanto riguarda la prestazione di oggi, può succedere, onore agli avversari hanno fatto una buona prestazione, noi siamo stati in partita un tempo, poi ci siamo un po' rilassati e questa è la mentalità che va un po' cambiata, che è la normalità, noi invece dobbiamo lavorare sulla normalità, a prescindere del risultato dobbiamo sempre lavorare con i soliti concetti, intensità, voglia, passione e tutto quello che poi comporta. La prestazione finale